187 nuovi casi di covid in Abruzzo su 10.195 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo dell'1,8%. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 96. La provincia più colpita è quella di Chieti con 85 nuovi casi, seguono quella di Pescara con 75 casi, quella dell'Aquila con 61 casi e il Terramano con 45 casi. 10 invece sono i contagiati che provengono da fuori regione. 12 morti, di cui 7 però sono decessi avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti sono invece 294. Sempre più critica la situazione negli ospedali dove aumentano anche oggi i ricoverati. Sono 7 in più rispetto a ieri quelli in area medica per un totale di 672 pazienti. 3 in più sono invece ricoverati in terapia intensiva con 8 nuovi ingressi dove attualmente i posti letto occupati sono 87. I positivi accertati in Abruzzo sono attualmente 13.325, meno 119 rispetto a ieri. E intanto c'è da aspettarsi nuove restrizioni. Quest'oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto al Governo Centrale di imporre in tutta Italia le chiusure del fine settimana, come già accaduto sotto Natale, col fine questo di evitare un lockdown generalizzato. Chieste inoltre misure più restrittive nelle zone gialle e arancioni, nonché zone rosse locali che scatterebbero automaticamente dove l'incidenza del virus supera i 250 casi ogni 100.000 abitanti.